grave incidente a taranto zona lama intorno alle 16 di domenica 6 agosto un ragazzo di 16 anni si trovava a bordo della sua moto quando il mezzo ha impattato con violenza contro un'auto il giovane nello scontro è stato sbalzato fuori fatale il colpo sul posto è intervenuto il personale del 118 ma non c'è stato nulla da fare se non constatare il decesso del giovane gli agenti della polizia locale e della polizia di stato sono giunti sul luogo per stabilire la dinamica del sinistro da indiscrezioni potrebbe esserci alla base un sorpasso azzardato